Benvenuti nella rubrica Un Hitchcock al Mese, dove si recensisce come da titolo un film scelto del miglior regista di sempre. Il film di oggi è io confesso, cominciamo! Film di Alfred Hitchcock con Montgomery Clift, Ann Baxter, Karl Maldon e Otto Edward Huss del 1953. Dopo l'omicidio di un ricco avvocato, il colpevole va immediatamente a confessarsi da padre Michael Logan, sapendo che il parroco non può rivelare nulla, data la segretezza della confessione. La polizia inizia ad indagare e tutti i sospetti ricadono proprio su Logan. Il film inizia con degli scorci quasi espressionisti e in particolare un'ombra riflessa su un muro sembra rimandare a uno sferato di Murnau. Durante questi incipit lo spettatore nota la tunica del killer appena fuggito dal luogo del delitto e quindi il pubblico inizia immediatamente a presupporre che l'assassino sia un prete, escludendo qualsiasi altra ipotesi e poco dopo si accorge di essere caduto in errore. Quando poi molteplici personaggi fanno il suo medesimo sbaglio, additando il personaggio principale come colpevole, lo spettatore si sente in colpa perché pensa che se fosse capitato in quella situazione avrebbe, con superficialità, condannato un innocente, così come ha già fatto a inizio pellicola. Insieme al protagonista, che deve tenere nascosto il segreto a tutti i costi per dovere religioso e il killer, lo spettatore è l'unico in possesso della verità e sarà frustrante vederla travisare e manipolare dagli altri personaggi che si basano sulle poche prove raccolte, tutte incriminanti per il personaggio principale. Tutta la storia si basa sul fatto che il prete non possa confessare perché ciò andrebbe contro le leggi divine, ma così facendo non consegnerebbe un criminale alla giustizia, infrangendo le leggi dello Stato. E questo contrasto, tipico della tragedia greca, porterà a dilemmi nel protagonista e nello spettatore, nonché una claustrofobica atmosfera che non offre apparentemente giuste soluzioni, ma solo drastiche prese di posizione. Odioso il villain, vigliacca e maligno, che pretende di essere salvato dal prete e sarebbe disposto a tutto pur di non finire condannato. Interessante il personaggio interpretato da Anne Baxter, che nel romantico e drammatico flashback che la vede protagonista dona un'aura noire al racconto nel raccontare quest'amore impossibile, sofferto e travagliato, che ricorda il lungo salto indietro nel tempo di recatene della colpa, o il flashback presente in testimone d'accusa di Billy Wilder di qualche anno dopo. La narrazione, nel suo basarsi unicamente su una trovata, risulta privata di ampio respiro Per quanto non a noi, non ci sentiamo realmente in pericolo per il protagonista, finché il processo non lo mette alle strette. Difatti, l'atto conclusivo da dramma giudiziario, genere in cui Hitchcock si era già cimentato più volte con eccellenti risultati, basti pensare al caso Paradine o a Rebecca, la prima moglie, è quello più ansiogeno e in grado di far sudare freddo lo spettatore. Lo stesso si può dire dell'epilogo, che per quanto sia scaturito da una forzatura drammaturgica, rimane emozionante nel suo crescendo di adrenalina, da vedere assolutamente, considerato minore dallo stesso Hitchcock e forse non all'altezza dei suoi capolavori, ma rimane un gioiello raro, in grado di incollare lo spettatore alla poltrona ancora oggi.